Il signorino si è degnato di tornare. Il signorino se ne va in giro in posti sconosciuti. Il signorino non risponde ai richiami. Il signorino, approfittando del suo colore nero, si mimetizza al buio. Il signorino, se tu osi tenerlo in casa, alza la coda vibrante e spruzza in casa della mamma. Il signorino deve cambiare un po' l'abitudine.